Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo nel cuore della città vecchia di Taranto, in via Duomo, al civico 33, nei pressi della sede della soprintendenza archeologica. Qui, alcune ore fa, a seguito di un intervento dei vigili del fuoco, è stata presa la decisione di transennare la strada in quanto vi è un palazzo che presenta delle lesioni, delle spaccature nella parte superiore. La zona giaceva così abbandonata, sino a che il Ugo Lomartire, qui al mio fianco, già consigliere comunale di Taranto e già presidente della circoscrizione Isola Porta Napoli, mi ha segnalato la situazione. Gli stessi amici dipendenti della soprintendenza avevano evidenziato questa situazione di pericolosità che non era apparente ma reale, visto che i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno provveduto a transennare l'aria. E allora Lomartire è una situazione particolare, proprio questa mattina, dicevamo in seguito al suo intervento, sono arrivati i vigili del fuoco. Bisogna intervenire. Sì, ho chiesto un intervento dei vigili del fuoco affinché si potesse verificare la situazione attuale di questo edificio di via Duomo 48, siamo nel cuore della città vecchia. I vigili del fuoco e anche i dipendenti comunali che sono intervenuti successivamente a seguito di questa mia segnalazione in mattinata hanno verificato una reale situazione di pericolo. E a seguito di questo l'aria è stata interdetta proprio al transito. È stata interdetta al transito perché bisogna salvaguardare prima di tutto la sicurezza dei cittadini, la sicurezza di anche coloro che lavorano qui. Tra le altre cose ci troviamo in prossimità di due scuole, qui all'altezza di via Duomo 48 e quindi chiedo che l'amministrazione comunale di Taranto intervenga, sia vigile affinché città vecchia non venga e non rimanga dimenticata e che non si creino situazioni di pericolo che rimangano inascoltate perché la sicurezza viene prima di tutto. E allora da Ugolo Martire passiamo a due dipendenti della sovrintendenza che quotidianamente hanno per così dire monitorato la situazione e la loro sensazione di questa spaccatura, di questa lesione che giorno dopo giorno si allargava di più non era una sensazione ma evidentemente aveva un suo fondo di verità, ha un suo fondo di verità tanto che da qui la decisione appunto di transennare l'aria. Allora io sono Franco Ursoleo della sovrintendenza archeologica, faccio servizio appunto qua in via Duomo e tutti i giorni visto che noi siamo qua in portineria notiamo questo problema, questo pericolo non solamente per noi dipendenti ma anche per tutta la cittadinanza che giustamente usufisce di questa via. Quindi noi chiediamo sia come dipendenti appunto per la sicurezza e per la gente che ci passa qualcosa di sicuro, di sicurezza. Non so, devono pensare di mettere appunto questo stabile in sicurezza, ripeto. Un altro dipendente? Sì, Franco Pavoni sempre della sovrintendenza archeologica. Sappiamo la sensazione di pericolo c'è sempre perché questa è poi una zona dove non è l'unico questo edificio che sta in queste condizioni qua e appunto dovrebbe essere il comune di Taranto a intervenire anche se sicuramente sono palazzini di privati che però non hanno mai avuto modo di mettere qualcosa in sicurezza. Quindi o il comune allerta questi proprietari per mettere al sicuro queste palazzine, proprio come ha detto prima lo martire, qua ci sono due scuole, transito specialmente nel periodo invernale di bambini con le mamme, quindi ovviamente oltre al traffico veicolare e quindi c'è sempre questo pericolo, questo insito nella questione. E allora lo martire per concludere, se non si denuncia, se non si chiamano i soggetti istituzionalmente per i posti, si continua a pascere, a dormire. L'intervento di stamattina è stato risolutivo. Tanto più che noi parliamo di turismo, però parlare di turismo in una situazione oltre che di degrado esteriore, ma proprio di sicurezza, di carenza di sicurezza, mi sembra non coniugabile con una visione di città vecchia dedicata al turismo. Sì, è una città vecchia dedicata al turismo, tra le altre cose per fare questo ci vorrebbero eventi, manifestazioni nel cuore dell'isola che rappresenta anche la nostra storia, le nostre radici, la nostra tradizione. Però poi la realtà è questa e la realtà è anche che arrivano milioni di euro e poi non si fanno gli interventi conseguenziali perché tanti milioni di euro in questi ultimi anni sono stati annunciati, ma di fatto concretamente interventi non se ne sono visti visto che gli ultimi interventi risalgono a ben 12 anni fa. Bene, è tutto da Via Duomo. Monitoreremo l'evolversi delle cose, vedremo che interventi in ambito di sicurezza verranno posti in essere. Noi vogliamo che qui in città vecchia si possa camminare sicuri, sicuri di vivere.